Buono compleanno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio parlarvi di una serie originale Netflix dal titolo Woo Assassins, ma prima metto un bel mi piace così sulla fiducia e un'iscrizione, ed ora possiamo anche iniziare. Me so visto sta serie che non mi è piaciuta per niente, ma veramente per niente, ma andiamo con ordine. Essa è una nuova serie tv originale composta da 10 episodi che mescola action, thriller e fantasy ed è ambientata nel quartiere Chinatown di San Francisco. Il protagonista della storia è Kei Jin, chef di un importante ristorante situato nel quartiere Chinatown di San Francisco e col pallino dello street food, che si ritrova improvvisamente ad essere l'assassino del Woo, ovvero il prescelto e l'ultimo di mille precedenti guerrieri chiamati a sconfiggere tutti i possessori del potere Woo, i cinque elementi, e cioè acqua, fuoco, metallo, legno e terra. Allo stesso tempo, il ragazzo è impegnato nella lotta che vede invischiata la mafia cinese nella perpuetua contesa della supremazia nel quartiere. La serie non dà emozioni, va avanti così tanto per, restando solo come un prodotto di intrattenimento il più piatto possibile. I combattimenti sono abbastanza vergognosi, con i classici cliché del puntare le armi direttamente sul corpo invece di sparare da lontano, effetti speciali aberranti, veramente terrificanti, che sarei capace persino io a fare di meglio. La CGI fa veramente schifo. Per non parlare dello sfondo con il palese chroma che è di fine anni 80. Veramente allucinante, ragazzi. Dovrebbe essere un budget veramente basso, basso, basso. L'unico punto a favore è il protagonista, Ico Wines, che con la sua esperienza decennale nel campo delle arti marziali ed in particolare nella disciplina del Pencax Silat, o come si chiama, che pratica da quando aveva soli dieci anni, riesce ad intrattenere con coreografie fantastiche che possono in qualche modo mettere in secondo piano la storia per niente originale. Utilizzando la tipica espressione senza infamia e senza lode, i protagonisti di Wasassin non regalano interpretazioni eccellse, ma al tempo stesso risultano quantomeno convincenti nella maggior parte del racconto. Wasassin merita di essere visto per i combattimenti, non sarà la serie TV che vi cambierà la vita, ma la sola presenza di uno showman, quale Ico Wines, sembra valere il tempo speso davanti alla TV. Quindi vi metto un 5, spero che questa recensione vi sia piaciuta, se così fosse metto un bel mi piace, commentate, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Ciao ragazzi, ciao, 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 ciao. Scusate per questo video così corto, ma non sapevo più cos'altro dire.